C'è arrivata oggi una segnalazione accompagnata da immagini forti che turbano la sensibilità non solo degli amanti e degli animali, ma di tutti coloro che hanno rispetto della vita altrui. Il corpo senza vita di un micio è stato visto a bordo strada in via Madonna Marina, ucciso, un mattone vicino al suo capo, insanguinato e ridotto in mille pezzi. Ucciso apparentemente proprio da quel mattone, fracassato gli addosso, un gesto così descritto di immane crudeltà. Il post che abbiamo pubblicato in cui davamo notizia di questo gesto crudele e gratuito è stato commentato da persone indignate, che non capiscono quanta cattiveria, crudeltà e infamia stia dietro un gesto simile contro una creatura indifesa. C'è arrivato più tardi un messaggio a seguito della segnalazione in cui un nostro follower affermava di essere passato in via Madonna Marina e di aver visto un uomo a fianco di un'auto che al telefono parlava concitatamente con qualcuno, dicendo non l'ho visto, non ho fatto apposta e cose simili. Il signore è stato visto mettere il cartello segnaletico vicino alla carcassa, forse per evitare che qualcuno, passando con l'auto, straziasse ancora di più il corpo del micio. Probabilmente la mano che ha compiuto il gesto crudele e senza cuore successivo è probabilmente di una persona passata in un secondo momento. Sul poster ha stato riportato un numero di telefono a cui chiamare per dare maggiori informazioni ed eventualmente denunciare per il reato di violenza esercitata contro l'animale, il colpevole. Hanno chiamato invece due persone, all'insaputa l'una dell'altra, fratello e sorella, che nella foto hanno riconosciuto il loro gatto, la ragazza in lacrime. Domani andranno a prendere ciò che resta del loro compagno di vita. Un incidente può capitare, ma forse, nel caso in cui si investa un animale, non si sa come ci si deve comportare. Non è uno scatolone, neppure un sacco della spazzatura. Non si può far finta di nulla e arrabattarsi a cercare di proteggere il corpo. Va chiamato il servizio veterinario dell'Asda o le forze dell'ordine. Chi non soccorre è soggetto a una sanzione amministrativa dell'importo dei 410 euro e 1643 euro. La multa è prevista anche per gli altri passeggeri presenti in macchina, anche se in misura minore. Oltretutto, sia il conducente che i passeggeri presenti in macchina, devono obbligatoriamente prestare il primo soccorso, trasportare l'animale in un posto protetto e chiamare tempestivamente i soccorsi. In Diga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre a pranzo e a cena. Trenota al tuo tavolo allo 041 40 55 20.